Ciao a tutti ragazzi, spacchettamento così rapido e veloce di questo pacco di Amazon che mi è arrivato con il corriere Non so cos'è ragazzi, non so cos'è Io mi immagino una cosa, siccome ho ordinato tante cose su Amazon Scusate, non so se Qual è davvero quello che mi immagino Che sale il suspense L'emozione Sì sì, è quello che mi aspettavo Vediamo se ci sono altre cose Il nostro pacchetto Ma non c'è nulla, ma non c'è nulla Amazon Guardate cosa ho ordinato Il studio microfono Studio di Aukey Allora, mi fido fortemente di questa marca Abbiamo uno Abbiamo tante cose Come sta Aukey Mi sono trovato davvero davvero molto bene Questo è tipo la specie di redicella che si mette nel microfono per migliorare l'audio Questo è il nostro microfono per migliorare l'audio Questo è il nostro microfono Questo è il nostro microfono Questo è il nostro microfono per migliorare l'audio Questo si mette praticamente Vi faccio vedere il manuale dove si mette questo Sicuramente si mette all'esterno Noi parleremo di qua E lui si mette qua Comunque Giustamente i check Lo monterò e vi dirò Come va il suono E come registra Questo splendido microfono Della Aukey Marca Che vi consiglio vivamente Perché fa E' vero degli ottimi Prodotti Mentre vediamo Giustamente questo Si deve provare Per vedere se conviene acquistarlo o meno Vediamo Vediamo se c'è qualche cosa 7 anche in italiano 8 anche in italiano 8 anche in italiano 8 anche in italiano 8 anche in italiano l'audio perché anche sto sistemando casa e c'è tutto nei miei piedi, vi dirò come va questo microfono, ciao a tutti raga